Lovecraft, la palude della luna Dennis Berry è scomparso, non so in quale spaventosa e lontanissima dimensione, ero con lui l'ultima notte che trascorse fra gli uomini e ne ho sentito urlare quando la cosa è avvenuta, ma nei contadini nella pulizia della contea di Meade sono riusciti a trovarlo. Non c'è riuscito nessuno, per quanto si sia cercato. Adesso tremo quando sento le rane che gracidano nelle paludi o quando vedo la luna in luoghi isolati. Avevo conosciuto Berry in America, dove aveva fatto fortuna. Quando aveva deciso di ricomprare il castello sulla palude, nella sonnolenta Kildery, ero congratulato con lui. Suo padre era partito da quelle terre e Berry voleva godersi le sue fortune in un paesaggio che gli apparteneva. Un tempo la sua famiglia aveva dominato Kildery e costruito il castello per farne la propria residenza. Ma quei giorni erano lontani e da parecchie generazioni il monumento era disabitato e all'abbandono. Dopo essere tornato in Irlanda, Berry mi scrisse parecchio, informandomi di come per sua cura il castello tornasse all'antico splendore. Risorgeva torre dopo torre, l'Edera tornava ad arrampicarsi su bastioni grigi e i contadini benedicevano il Signore per aver fatto rivivere ai vecchi tempi col denaro che aveva guadagnato oltreoceano. Poi cominciarono i problemi e i contadini, anziché benedirlo, presero l'abitudine di sfuggire il mio amico come una peste. Infine Dennis Berry mi chiesse di andarlo a trovare. Al castello era solo e non aveva nessuno con cui scambiare una parola tranne i nuovi servitori e la squadra di operai che avevo portato dal nord. La causa di tutti i guai era la palude, come Berry confessò la sera del mio arrivo. Avevo raggiunto Kilderie al tramonto di una sera d'estate, quando l'oro del cielo rischiarava il verde dei boschi e delle colline e l'azzurro della palude. Proprio sulla palude, al centro di un'isoletta remota, un vecchio rudere splendeva di un'alone spettrale. Il tramonto era stupendo, ma Bellilug i contadini me ne avevano messo in guardia e avevano aggiunto che ormai Kilderie era un posto maledetto. Quando mi erano apparse le torri del castello, incendiate d'oro, avevo provato un brivido. La mattina di Berry era venuta a prendermi alla stazione di Bellilug perché a Kilderie la ferrovia non arriva. Gli abitanti del villaggio avevano evitato accuratamente la vettura e l'autista arrivati dal nord, ma quando si erano resi conto che andavo a Kilderie, mi avevano sussurrato qualcosa, impallidendo. Quella sera, dopo che ci fummo riabbracciati, Berry mi spiegò perché. I contadini avevano abbandonato Kilderie perché Dennis Berry si proponeva di prosciugare la grande palude. Nonostante il suo amore per l'Irlanda, l'America lo aveva assegnato e Berry odiava quel magnifico spreco di spazio, al posto del quale si sarebbero potuti ottenere terreni coltivabili nei campi di Piselli. Leggende e superstizioni del luogo non lo avevano commosso né impressionato, anzi, aveva riso del comportamento dei paesani. Questi ultimi resisi conto che la sua decisione era irremovibile e avevano prima rifiutato ogni aiuto, poi si erano trasferiti a Bellilug con le loro poche masserizie e l'avevano maledetto. Al loro posto, Berry aveva assunto una squadra di operai del Nord e poco dopo aveva dovuto sostituire i vecchi servitori. Sentendosi solo in mezzo a tanti estranei, mi aveva chiesto di raggiungerlo. A sentire quali erano i timori che avevano indotto la gente di Kilderi ad andarsene, risi come il mio amico, perché si trattava di fole, del tutto immaginarie. Il nucleo della faccenda era una leggenda della palude, secondo la quale il rudere che sorgeva sull'isolotto, che io avevo visto al tramonto, era guardato da uno spirito malefico. Si parlava di luci che danzavano nelle notti in luni e di venti gelidi che s'alzavano all'improvviso anche nelle sere più calde, di figure ammantate di bianco che fluttuavano sull'acqua ed un'immaginaria città di pietra che si sarebbe trovata in fondo all'acquitrino. Ma tra le tante fantasie, un fatto su cui tutti concordavano era che una terribile maledizione attendeva colui che avesse osato toccare o prosciugare la vasta palude limacciosa. C'erano segreti, a detta dei contadini, che non andavano scoperti, segreti che erano rimasti tali da quando la pestilenza aveva decimato i figli di Partolan in un'epoca favolosa che precede la storia. Nel libro degli invasori si racconta che quei discendenti dei greci fossero tutti sepolti a Tallagat, ma Chilveri sostenevano che una delle loro città fosse sopravvissuta grazie alla protezione della luna e che il terriccio delle colline l'avesse sepolta solo quando dall'ascizia erano arrivati i nemediani sulle trenta navi. Questi erano i racconti che avevano spinto i contadini a lasciare Chilveri, e non potrei fare a meno di giustificare Dennis Perry che si era rifiutato di ascoltarli. Egli era tuttavia personalmente interessato a tutto ciò che aveva a che fare con l'antichità, e si proponeva di esplorare accuratamente il fondo della palude, non appena l'avessero prosciugata. Aveva visitato spesso le rovine bianche sull'isolotto, ma sebbene fossero antichissime e molto diverse da quelle che si trovano di solito in Irlanda, erano in condizioni troppo disastrose per permettere di ricostruirne il passato. I lavori di drenaggio stavano per incominciare, e gli operai del nord si accingevano a strappare alla palude proibita il rivestimento di musco verde ed erica rossa. Poi avrebbero asciugato le polle azzurre, circondate dalle canne e rivoletti secondari. Dopo che Barry ebbe finito il suo racconto, sentii tutto il peso del sonno. La giornata era stata sfibrante, e lui aveva parlato per metà della notte. Un servitore mi indicò la mia stanza, che si trovava in una torre appartata a strapiombo sul villaggio e in tratto di pianura che costeggia la palude. Dalle finestre potevo vedere le case silenziose e illuminate dalla luna, da cui i contadini erano fuggiti, e che adesso ospitavano gli operai del nord, la chiesa parrocchiale con l'antico campanile, e più oltre in mezzo all'acquitrino minaccioso, l'antichissimo rudere, che brillava di un bianco spettrale sull'isolotto. Appena infilato a letto, mi parve di sentire dei suoni in lontananza, note selvagge e quasi musicali, che mi riempirono d'eccitazione e colorirono i miei sogni. Ma quando la mattina dopo mi svegliai, mi convinsi che era tutto frutto dell'immaginazione, del resto avevo fatto sogni ancora più bizzarri. Influenzato dalle leggende che mi aveva riferito Barry, nel sonno avevo ricostruito una magnifica città, che sorgeva in una valle verdeggiante, ricca di strade di marmo e di statue, di ville e templi, di sculture e iscrizioni. Era un omaggio alla grandezza greca. Quando raccontai il sogno a Barry, ridemmo tutti e due, ma io di più, perché lui era preoccupato per via degli operai. Era la sesta volta che si alzavano più tardi del solito e si aggiravano per i paesi lenti e stupiditi, come se non avessero dormito bene. La mattina e il pomeriggio seguente esplorai da solo il villaggio assolato, parlando qua e là con gli operai oziosi, perché Barry era occupato dagli ultimi ritocchi al progetto di bonifica. Gli operai non erano soddisfatti, come avrebbero dovuto, e cercavano di ricordare un sogno sfuggente che li aveva messi a disagio. Parlai del mio sogno, ma non parevano interessati, fino a quando accennai alla musica misteriosa. Allora mi diedero un'occhiata strana e affermarono di aver sentito anche loro dei suoni fantastici. La sera cennai con Barry, che annunciò l'inizio del prosciugamento entro due giorni. Ero contento, perché sebbene mi dispiacesse veder sparire Musco ed Erika, Polly e Laghetti, provavo un desiderio sempre più forte di scoprire i segreti che il fondo limaccioso nascondeva. Quella notte i miei sogni di flauti e peristili di marmo culminarono in un improvviso e inquietante finale, perché sulla città, nella valle, vidi abbattersi una grave pestilenza e una valanga di alberi e terriccio, seppelli cadaveri ed edifici, lasciando allo scoperto solo il tempio di Artemide sul picco più alto. Cleis, l'anziana sacerdotessa della luna, giaceva immobile e fredda, con una corona d'avorio sulla testa bianca. Mi svegliai all'improvviso, in allarme, e per qualche minuto non riuscii a stabilire se fossi sveglio o sognassi, perché la musica dei flauti risuonava distintamente alle mie orecchie. Ma quando vidi sul pavimento i freddi raggi della luna e la sagoma di una finestra gotica munita di inferriate, capii che dovevo trovarmi nel castello di Childeri. Un orologio su un lontano pianerottolo suonò le due e seppi con certezza di essere sveglio. Il monotono concerto dei flauti continuava, folli e assurde melodie che mi facevano pensare a una danza di fauni sul monte Menalo. Poiché non riuscivo a dormire, balzai in piedi e cominciai ad andare su e giù all'impazienza. Solo per caso mi avvicinai alla finestra di Settentrione e guardai il villaggio addormentato e il tratto di pianura sul bordo della palude. Non avevo nessuna voglia di guardare fuori, avrei preferito dormire, ma i flauti mi torturavano e dovevo fare o vedere qualcosa. Avrei potuto immaginare ciò che mi aspettava. Alla luce della luna che inondava la pianura si presentava uno spettacolo che nessun mortale avrebbe potuto dimenticare. Al suono dei flauti di canna che risuonavano dall'acquitrino una fantasmagoria di figure danzanti procedeva silenziosa. Era una folla mista e festosa e celebrava un baccanale degno dell'antica Sicilia quando si ballava presso il Ciane sotto la luna d'estate in onore di Demetra. L'ampia pianura, la luna d'oro, le ombre che danzavano e soprattutto i monotoni flauti produssero un effetto che quasi mi paralizzò. Ma nonostante la paura notai che metà degli instancabili, meccanici ballerini erano gli operai che avevo creduto addormentati mentre l'altra metà erano strane ed etere creature in bianco piuttosto vaghe nell'insieme ma che facevano pensare a pallide e melanconi tenaiedi delle fontane magiche sotto la paluda. Non so per quanto tempo osservai la scena dalla torre solitaria prima di precipitare in un sonno senza sogni ma mi svegliai al sole alto del mattino il mio primo impulso fu di comunicare le mie paure e le mie impressioni a Dennis Berry ma quando vidi la luce del sole che filtrava dalla finestra a oriente mi dissi che dovevo aver sognato faccio spesso sogni bizzarri ma non sono tanto sciocco da crederci così mi accontentai di interrogare gli operai che come al solito si alzarono tardi e dissero di non ricordare niente a parte qualche sogno confuso e acuti suoni musicali la questione dei flauti mi preoccupava e mi chiese se i grilli d'autunno non fossero arrivati prima del tempo a rallegrare la notte e a influenzare i sogni degli uomini più tardi raggiunsi Berry in biblioteca dove era chino sui piani dell'importante lavoro che sarebbe cominciato l'indomani per un attimo provai la stessa paura che aveva spinto i contadini di Childer e di abbandonare le proprie case per un'ignota ragione temevo l'idea di disturbare l'antica palude e i segreti che custodiva il riparo del sole immaginai che sul fondo si agitassero visioni orrende che tali segreti dovessero essere portati alla luce non mi pareva affatto saggio e desiderai una scusa per poter lasciare il castello e il villaggio mi accennai al mio amico e abbandonai i miei tentativi solo quando scoppiò a ridere al tramonto ero di nuovo taciturno il sole calò maestoso sulle colline lontane e Childeri si accese di fuoco e d'oro in un bagliore che presagiva portenti non saprò mai se gli avvenimenti di quella notte furono il frutto di realtà o illusione certo trascendono tutto ciò che normalmente sogniamo entro i confini della natura e dell'universo ed è impossibile spiegare le sparizioni di tanti uomini in modo ordinario andai a letto presto e pieno di paura ma per molto tempo l'arcano silenzio della torre mi impedì di dormire era molto buio perché sebbene il cielo fosse limpido la luna calante sarebbe sorta solo nelle ore piccole girandomi nel letto pensai a Dennis Barry e a quello che sarebbe accaduto alla palude il mattino dopo provavo l'impulso quasi irresistibile di fuggire nella notte prendere la macchina di Barry e correre come un pazzo a belli lug lontano dalle lande minacciate ma prima che le mie paure potessero cristallizzarsi in azioni mi addormentai e mi apparve in sogno la città nella valle fredda e morta sotto un sudario d'ombre probabilmente fu il suono dei flauti a svegliarmi ma appena aprì gli occhi ciò che mi colpì fu qualcos'altro ero sdraiato con la schiena alla finestra d'oriente dove sarebbe sorta la luna e quindi mi aspettavo di vederne le luce sulla parete di fronte non ero preparato invece allo spettacolo che seguì sul muro c'era effettivamente una luce ma non quella della luna dalla finestra gotica pioveva un fascio terribile penetrante e rosso che immergeva la stanza in un bagliore ultraterreno agì rapidamente e in modo bizzarro data la situazione ma è solo nei romanzi che si fanno le cose drammatiche previste dal copione e invece di guardare la palude e scoprire l'origine della nuova luce tenne gli occhi lontano dalla finestra perché ero in preda al panico e mi vestì goffamente con la vaga intenzione di scappare ricordo di aver preso la mia pistola e il cappello ma prima che tutto fosse finito li avrei persi entrambi senza usare la prima né indossare il secondo dopo un poco il fascino della luce rossa ebbe la meglio sulla paura e mi avvicinai alla finestra di Levante guardai fuori mentre l'assurdo e incessante concerto di flauti risuonava nel castello e sul villaggio sull'acquitrino pioveva un diluvio di luci sanguigne e sinistre il rutare in mezzo all'isolotto ne era l'ipicentro e appariva sotto un aspetto diverso che non so descrivere devo aver dato i numeri perché invece delle rovine vedevo un edificio maestoso e nuovo cento di magnifiche colonne e col marmo delle cuspide che rifletteva le fiamme quasi a forare il cielo pareva un tempio sulla cima di una montagna i flauti impazzivano e cominciò a tuolare un rullo di tamburi mentre osservavo la scena in preda al terror sacro mi parve di vedere forme oscure che saltellavano sullo sfondo del tempio di marmo e del bagliore di fuoco l'effetto era spettacolare impensabile e avrei potuto guardare all'infinito se i flauti non avessero cominciato a suonare con più forza alla mia sinistra in preda un terrore che si mescolava stranamente a sensazioni d'estasi attraversai la stanza circolare e andrei alla finestra di settentrione da cui si vedevano il villaggio e la piana sul bordo della palude sgranai gli occhi in preda a un'assurda meraviglia come se non mi fossi appena staccato da una scena che non aveva niente a che fare con le leggi della natura sulla pianura spettrale e bagnata di rosso rimuoveva una processione che nessuno ha mai visto fuori degli incubi in parte scivolando in parte galleggiando nell'aria le naie dei vestiti di bianco si ritiravano lentamente verso le acque immobili e il rudere sull'isolotto erano disposte in fantastiche formazioni e facevano pensare a un'antica e solenne danza cerimoniale le braccia semitrasparenti tondeggiavano al detestabile pigolio di flauti invisibili e invitavano presso di sé una folla di operai stupiditi dal sonno che le seguivano come cagnolini e avanzavano sulla pianura non di propria volontà ma con l'incertezza e la cecità di chi ha chiamato da un demone mano a mano che le naiede si avvicinavano alla palude una nuova fila di incantati usciva dal castello con passo da ubriachi e una porta che si trovava molto al di sotto della mia finestra si avviavano incespicando in cortile attraversavano una parte del villaggio e raggiungevano gli operai sulla piana nonostante la distanza vedi che si trattava dei domestici arrivati dal nord e riconobbi la figura brutta e sgraziata del cuoco da cui goffaggine appariva ora indicibilmente tragica i flauti pigolavano orribilmente ed il nuovo sentì un rullo di tamburi al rudere sull'isolotto e poi in silenzio le naie dientarono nell'acqua e si fusero ad una ad una con l'antica palude mentre la teoria dei seguaci incapaci di controllare la propria andatura affondò senza misericordia e scomparve in un vortice di bolle d'aria che potei a stento distinguere nella luce scarlatta e quando l'ultimo dei patetici servitori in grasso poco scomparve alla vista nell'acquitrino inflauti ai tamburi d'acquero e gli accecanti bagliori che promanavano dalle rovine si spensero all'istante il villaggio della catastrofe rimase solo e deserto sotto la luna appena sorta la mia mente era in un disordine indescrivibile non sapevo se fossi pazzo o sano sveglio addormentato e fui salvato solo da un provvidenziale torpore credo che avrei fatto cose ridicole come pregare Artemide o Latona Demetra e Persefone addirittura Plutone mi tornarono alla mente gli studi classici e i ricordi salirono alle labbra perché l'orrore della situazione aveva riattizzato le mie più profonde superstizioni mi rendevo conto di aver assistito alla morte di un intero villaggio e sapevo di essere solo nel castello con Danny Sperry da cui Ibris aveva provocato la catastrofe pensavo a questo quando fui assalito da un fremito di terrore caddi sul pavimento non svenuto ma fisicamente prostrato dalla finestra oriente dove era sorta la luna venne una sferzata di vento gelido e nel castello cominciarono a eccheggiare le urla presto arrivarono a un'acutezza e intensità che non si possono descrivere e che ancora mi danno i brividi tutto ciò che posso dire è che venivano da qualcuno che avevo conosciuto come mio amico a un certo punto il vento freddo e le urla devono avermi scosso dal torpore perché ricordo di aver corso come un folle per stanze e corridoi bui come l'inchiostro in cortile e nell'orribile notte mi trovarono all'alba che vagavo instupidito nei dintorni di Bellilug ma quel che mi aveva fatto perdere il ben dell'intelletto non erano gli orrori cui avevo assistito ciò che borbottavo fra me mentre uscivo dal buio della semi-incoscienza era il vago ricordo di due assurdi incidenti capitati durante la mia fuga cose di nessuna importanza e che pure mi perseguitano ancora oggi quando mi trovo nei pressi di una palude o al chiaro di luna mentre fuggivo dal castello maledetto e costeggiavo il bordo della palude avevo sentito un suono diverso un suono comune eppure dissimile da quelli che avevo udito a Childeri l'acqua della palude stagnante pressoché priva di vita animale brulicava adesso di enormi e visci di rospi che gracinavano senza posa e in toni acuti che contrastavano con la loro mole luccicavano verdi e gonfi ai raggi di luna e sembravano fissare l'astro notturno segui lo sguardo di un esemplare particolarmente grosso e repellente e vidi la seconda cosa che mi fece perdere la lucidità dai ruderi dell'isolotto bagnato dalla luna si sprigionava un debole chiarore che non si rifletteva nell'acqua della palude verso l'alto lungo la tenue radiazione credetti di vedere un'ombra sottile che si contorceva lentamente un profilo vago elusivo che lottava contro l'attrazione di demoni invisibili fuori di me com'ero mi parve di riconoscere in quell'ombra spaventosa una terribile rassomiglianza un'incredibile sconvolgente caricatura un'effigie blasfema di colui che era stato Dennis Barry che era stato un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio grazie